di sicurezza. Si parte per la semitappa che da Prato porterà i girini e i bagni di Casciana. La carrellata delle macchine pubblicitarie segue i corridori e queste immagini ci dicono quanto queste case siano interessate al pubblico del ciclismo e del giro in particolare, per pubblicizzare i loro prodotti. Dopo Fucecchio partono l'attacco Luciano Maggini e Brotto. I due non vengono più raggiunti benché il loro distacco vada sempre più rimpicciolendosi e sulla linea del traguardo Maggini stacca Brotto che è seduto improvvisamente.